Per tutta la giornata musica non stop sul ponte degli Alpini di Bassano con la doppia maratona pianistica. Metti un ponte, simbolo di una città, due pianoforti, 200 musicisti dai 6 ai 23 anni degli istituti musicali del Veneto e musica non stop dalle 10 alle 23. E' la maratona pianistica sul ponte degli Alpini di Bassano che ha catturato l'attenzione di tante persone, turisti e bassanesi di passaggio, stregati dalla magia delle note nel suggestivo salotto sul fiume Brenta. Antibambini, tanti giovani. Eh sì sì perché poi qui ci sono anche bambini di 10-11 anni che suoneranno quindi ne sento anche di bravissimi, bella iniziativa. Bellissime. Tanti giovani, vero coinvolti? Eh, se ne sono coinvolti loro, ma di modo bene, bene, una bella iniziativa. Se l'aspettava una cosa del genere? No, 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 però qui a Bassano bisogna ammetterlo, non è una realtà, queste iniziative si ricorrono ogni anno. Insomma, un ponte che si trasforma davvero in un salotto di musica. No, è troppo bello, siamo venuti anche l'anno scorso, è un'iniziativa stupenda veramente. È un'iniziativa degna di una bella città, sono onorato di essere bassanese. E soprattutto coinvolgendo tanti, tanti giovani, giovanissimi. Soprattutto quello, coinvolgere proprio i giovani ad amare la propria città e a fare queste iniziative proprio per dare lustro.